Si è appena conclusa la fase di vaccinazione degli over 60, cominciata lunedì 31 maggio al punto vaccinale di prossimità a Marotta di Mondolfo. Circa 200 le persone che si sono recate negli spazi messi a disposizione dal comune, nella sala ciriachi del bocciodromo, per la somministrazione della prima dose. Ora si proseguirà con l'apertura a tutte le categorie già avviate anche dalla Regione Marche. Le giornate previste sono quelle di lunedì 14, martedì 15 e venerdì 18 giugno dalle 15 alle ore 18. A nome di tutta la comunità voglio ringraziare i medici di Medicina Generale del Territorio, l'Asur, la Regione e i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile per la loro collaborazione e disponibilità. Dopo questa prima fase, condotta in modo impeccabile da tutti i soggetti interessati all'organizzazione, abbiamo deciso, in collaborazione con Asur e i medici di Medicina Generale, di continuare a dare il nostro contributo alla campagna di vaccinazione con ulteriori tre giornate. Anche in questo caso la gestione amministrativa sarà seguita dai volontari della Croce Rossa del Comitato Locale di Marotta a Mondolfo, mentre le prenotazioni verranno gestite dai volontari della Protezione Civile fa a Di Bruno. Potranno prenotarsi tutti i cittadini che non hanno ricevuto ancora la prima dose residenti nei comuni del distretto sanitario di Fano. Sarà possibile prenotarsi chiamando il numero 338 67 50 743 oppure recandosi negli stessi giorni e orari al punto informativo allestito dalla Protezione Civile presso il parcheggio del bocciodromo comunale.